Ciao, mi chiamo Leo Ravera e ti presento un videocorso per imparare a suonare il pianoforte e conoscere la musica. Per questo videocorso ho scelto l'Opera 101 di Ferdinand Bayer perché è un libro che ho utilizzato con centinaia di allievi diversi in oltre 25 anni di insegnamento. È un libro molto ordinato e facile da seguire, infatti introduce gli argomenti uno alla volta e consente a tutti di imparare la musica in modo graduale e divertente. Ciascuna video lezione è dedicata ad un esercizio dell'Opera 101. Per prima cosa ti spiegherò lo spartito, imparerai così a leggere la musica senza fatica. Vedremo poi insieme i passaggi più difficili da suonare. Infine suonerò l'esercizio per intero. Il libro di Bayer è stato il primo che ho studiato quando ho iniziato a suonare ed il primo che ho proposto a tutti i miei allievi, molti dei quali adesso suonano benissimo con mia grandissima soddisfazione. Se ami la musica e vuoi imparare a suonare, questo videocorso ti aiuterà a trasformare il tuo sogno in realtà. Se incontrerai poi qualche difficoltà potrai sempre scrivermi, chiedermi consiglio su Whatsapp o anche fissare un'ora di lezione individuale che faremo tramite Skype. A me farà sicuramente piacere conoscerti di persona ed aiutarti ad imparare a suonare. Non penso però che ne avrai bisogno. Se segui le lezioni in modo ordinato, il videocorso sarà più che sufficiente. Mettiti alla prova. Le prime video lezioni sono gratuite, così puoi vedere se il corso ti piace prima di abbonarti e accedere così a tutte le video lezioni. Non resta che salutarti, in bocca al lupo, per questa grande avventura che è la musica. Grazie a tutti.